E' tornata anche per quest'anno la festa del pensionato promossa dalla Federazione Territoriale della FNP Cisle di Cosenza. Tema dell'iniziativa, ospitata dal Teatro Morelli, è stato una forza che lotta oggi per vincere domani alla presenza dei vertici regionali e locali del sindacato e delle delegazioni provenienti dai centri della provincia. Diciamo che la Cisle dà più tempo in campo su tutte le problematiche che riguardano le politiche sociali, il welfare, su come tutelare le fasce deboli della nostra popolazione, gli anziani, i pensionati e quindi questa iniziativa della Federazione dei pensionati di Cosenza si inquadra in questo contesto. Per noi questo è un cavallo di battaglia da molto tempo perché pensiamo che una regione come la Calabria dove si sta allargando sempre più la fascia di disagio, la povertà aumenta, addirittura quasi due famiglie su tre si trovano in una condizione di disagio economico e sociale, per noi tutto questo rappresenta una priorità da affrontare e risolvere. Un'iniziativa che punta a dare vigore alle stanze del popolo dei pensionati affinché abbiano il giusto peso agli occhi della collettività. Stiamo chiedendo al governo regionale interventi strutturali per quanto riguarda le politiche sociali, sulla non autosufficienza, sulla legge della famiglia, ma così come la stessa cosa chiediamo agli enti territoriali mettere in campo un welfare municipale che tuteli e metta in sicurezza il più possibile tante fasce di popolazioni che oggi vivono in una condizione veramente drammatica. E' ovvio che su questi temi secondo noi c'è bisogno di una maggiore attenzione da parte della politica, da parte delle istituzioni e noi stiamo lavorando proprio in questa direzione perché riteniamo che non si possano lasciare migliaia e migliaia di persone in uno stato pressoché di indigenza e di grande difficoltà e di malessere sociale.